L'associazione culturale Extramenia di Siracusa, organizzatore dello spettacolo Viaggio Dantesco alla Valle dei Templi. Quest'oggi siamo qui, l'11 luglio, qui in questo luogo magnifico che è la Valle dei Templi, per questo ringrazio sia il maestro De Angelis per l'opportunità, che il direttore del parco, che tutto il personale del parco archeologico di Agrigento, perché devo dire anche la città e tutti i cittadini di Agrigento, perché ci hanno accolto qui, questo è il secondo anno, saremo qui con il Viaggio Dantesco. E' un viaggio, come diciamo noi tutti, nel viaggio, perché sarà una partenza di un tour nazionale che partirà da Agrigento, quindi quale miglior cornice che la Valle dei Templi, per poi proseguire il viaggio a Noto Antica, e spostarsi poi su nel Lazio, quindi la Dispoli Cervetri, e chiudere a Roma il 27-28 settembre per le giornate europee del patrimonio al Museo di Villa Giulia a Roma. Allora, il Viaggio Dantesco, cos'è il Viaggio Dantesco? Questa sera verrà messa in scena l'opera dantesca, la Divina Commedia, l'opera più celebre del patrimonio italiano, attraverso la messa in scena in questo luogo suggestivo, quindi attraverso i siti archeologici. Questa è una delle caratteristiche del teatro di De Angelis, del maestro De Angelis, in cui lui valorizza e porta il teatro come mezzo di fruizione nelle aree archeologiche, senza palcoscenico, infatti vedrete, la palcoscenico, la scenografia la farà lo sito stesso, senza microfoni, infatti gli attori andano in voce, infatti tutti gli attori che ci seguono, sia professionisti e non, hanno seguito un corso, sono stati, come dire, costruiti il percorso insieme con loro, perché è tutta una tecnica del diaframma, un po' come insegnavano i maestri una volta a teatro. Un'altra caratteristica è quella di mettere insieme professionisti e non, un po' come facevano i neorealisti del cinema, i più famosi Rossellini e De Sica, questa è una particolarità del teatro di De Angelis. E' una picolarità questa sera che potrete vedere, tutti i personaggi sono in costume, l'unico che va un po' fuori i canoni della Divina Commedia è Dante stesso, perché? Perché è vestito moderno, è proprio un gioco che Dante è ancora in mezzo a noi, quindi questo è un messaggio che il regista vuole dare, un messaggio forte, importante che trapederà dalle note e dalle righe di questo spettacolo. Lo spettacolo sarà con l'accompagnamento musicale del maestro Francesco Branciamore, di Valerio Massaro, tutta musica dal vivo, quindi tutto dal vivo, proprio perché vogliamo che il palcoscenico fondamentale e il protagonista sia l'opera silentesca, ma è il luogo che ci ospita. Quindi ancora una volta ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, ringrazio anche il soprano, le Sialisci, la Rita Gurrieri, della compagnia del balletto Mila Plafsic che faranno le coreografie, e tutti coloro appunto che hanno reso possibile questo, quindi il dottor Parrello, il dottor Presti, Adel Molisci, tutto il personale del parco archeologico di Agrigento. Quindi siamo ben lieti di cominciare qui e cominciare questo viaggio e magari tornare qui per un altro appuntamento. Quali personaggi della Divina Commedia che vedremo? Beh, i personaggi più importanti e più celebri ovviamente, quindi partiamo da Caronte, da Beatrice, Paolo e Francesca, Ulisse, il conto Golino. Ci sarà anche un riferimento sia alla scuola dei poeti siciliani, quindi Pier delle Vigne, ci sarà anche un riferimento proprio a, strettamente ad Agrigento, quindi con Guido da Montefeltro nel girone anche lui delle fiamme dei dannati, perché lì Dante cita poco prima di parlare di Guido, cita anche il toro di Falaride, quindi abbiamo anche collegato a questo la città di Agragas. E quindi, ripeto, questi personaggi si alterneranno, ma Brunetto Latini, poi ci spostiamo anche al Furgatorio Matelda, Bonconte, Manfredi, per poi chiudere al Paradiso, quindi con Piccarta, con Giustiniano e poi il trentatresimo canto, l'Inno alla Vergine, con Dante, da Ballerini, ma dico poco perché altrimenti si sveglia la magia.